Proseguono i cantieri per quanto riguarda l'opera denominata La città delle due rive. Si tratta del collegamento tra la statale 67 a Montelupo Fiorentino e la strada provinciale 106 a Capraia e Limite. Verrà costruito un nuovo ponte e gli operai sono attualmente a lavoro sul versante limitese. Si stanno facendo adesso i plinti per poter poi poggiare il ponte. Prima sono stati fatti dalla parte di Montelupo e adesso si sono spostati dalla nostra parte. Questo, almeno da quello che mi dicono i tecnici di ANAS, è nel rispetto dei tempi che ci avevano dato. Quindi noi si spera che entro il prossimo anno di avere tutta la struttura e tutto il collegamento completato. Per quanto riguarda i lavori nel territorio di Montelupo... Si vede già a partire dalla statale, vicino appunto al nostro distributore, dove si può già apprezzare appunto una bozza di quella che poi sarà la rotatoria e il tracciato che porterà a Capraia. Non si tratta solo di un ponte perché è un'opera molto invece più articolata, perché si parla anche di tre rotatorie, due distribuite su Montelupo, una su Capraia e Limite e di un tracciato di quasi due chilometri. Nello specifico, l'intervento dal costo complessivo di 31 milioni e 700 mila euro e con termine previsto entro il 2025, consiste nella realizzazione di una nuova strada di 1,8 km, con una pista ciclabile di 1,9 km lungo la viabilità principale e il nuovo ponte sull'Arno di 300 metri. L'intera opera valorizzerà le zone industriali dei due comuni, permettendovi una maggiore accessibilità e garantendo un collegamento praticamente diretto alla FIPD. Non solo, sarà migliorata la viabilità dei due comuni con aumento della sicurezza stradale. Tutti i mezzi pesanti che adesso passano all'interno del centro abitato di Limite non sarà più questo passaggio e quindi sarà una situazione importante. In più, la sicurezza è anche garantita dal fatto che noi avremo anche un'altra via di fuga per il nostro comune, perché adesso abbiamo un'unica via di fuga verso Empoli, perché a causa del sottopasso della ferrovia Montelupo, poi i mezzi pesanti, i mezzi di soccorso più grossi non possono passare. Quindi mettiamo oltre che una situazione di miglioramento dal punto di vista economico, la nostra zona industriale è anche in una situazione di maggiore sicurezza nel nostro territorio. Il ponte a Montelupo ha un altro obiettivo molto importante, che è quello di liberare poi il traffico da quello che è il centro. Se chiunque passa da Montelupo intorno alle 6 e 7 del pomeriggio, si accorgerà in tanti momenti, soprattutto in prossimità del venerdì, una fila costante, data appunto che parte dal sottopassaggio per andare a Capraia fino alle zone di Viale Centofiori e Via Caverni. Auspichiamo che un'apertura del ponte possa portare a un miglioramento, a dei benefici, anche appunto in termini di viabilità per quello che è il centro di Montelupo. Grazie per la visione!